Vediamo come possiamo realizzare un trucco che chiamerei happy hour, non eccessivamente definito nel tratto, molto sfumato ma sicuramente impattante. Iniziamo ad applicare una leggera sfumatura di matita nera con piccoli tratteggi con un pennello in martora abbastanza fine, vado a sfumare questo tratto un po' su tutta la palpebra, il tratto si allunga verso l'alto e la zona che diventa più scura è quella dell'angolo esterno. A questo punto interveniamo con il primo colore e un grigio leggermente perlato che andiamo ad applicare a ridosso.